Ragazzi e benvenuti in uno dei nuovi video di Vieni a vivere all'estero. Oggi, come vedete dietro di me, non è la classica giornata tipica che vi ho fatto vedere nei giorni scorsi, è un po' tutto grigio, è una classica giornata autunnale, ci sta anche perché siamo a novembre. E dovete ricordarvi che se vi capita, come succede a me oggi, di essere di riposo proprio in un giorno in cui il tempo non è dalla vostra, non dovete disperare ma dovete ricordarvi che è normale. Molte delle persone nate in Irlanda considerano questo tempo più che normale perché chiaramente per molti giorni all'anno potrebbe essere così e addirittura alcune persone mi hanno confessato di essere amanti dell'autunno, amanti dell'inverno, parlo di persone irlandesi, sicuramente anche tra gli italiani ci saranno persone che sono particolarmente affezionate a un clima del genere. Ad ogni modo, quando vi succede una giornata del genere e magari avete pianificato qualcosa all'aperto e non ci riuscite perché magari c'è una pioggia o altro, dovete ricordarvi di armarvi, come faccio io con il mio kimono giallo, e andare fuori comunque perché gli irlandesi corrono anche se piovigina, anche se a volte piove in maniera vistosa, si mette un bel cappello così la visiera li protegge un pochino, e si va avanti, quindi davvero non fatevi fermare dalla pioggia e magari se siete nel periodo in cui siete arrivati da poco, state aspettando il lavoro, magari il vostro umore non è alle stelle e in più vedete una giornata del genere, non vi preoccupate, prima o poi in qualche maniera vi ci abituerete meglio magari e considerate che se vi mettete in moto, riempite la vostra giornata con degli impegni, con delle cose da fare possibilmente in ambienti luminosi, vi sentirete sicuramente meglio e se fate una bella sudata come appena fatto io, sarà ancora più semplice affrontare la giornata anche se sembra buia e uggiosa, a presto ragazzi, ci sentiamo alla prossima, ciao!